Come abbiamo colto una disattenzione sui 60 anni di questa enciclica, che è invece di una straordinaria attualità. Quindi come Consiglio regionale abbiamo voluto star vicino e sostenere appunto questa pubblicazione proprio perché riteniamo che andasse colto questo sessantesimo anniversario con la dovuta, diciamo così, anche attenzione da parte delle istituzioni. Come Consiglio regionale lo abbiamo fatto perché ritenevamo fosse assolutamente importante. La grandezza di San Giovanni XXIII non fu colta negli anni 60 ma neanche negli anni successivi. Pace Minterris è un messaggio che è rivolto per la centralità dell'uomo e della famiglia e andrebbe colto veramente da tutti i governanti, anche per il rapporto fra governanti e governati. Riuscire a far sì che il bene comune prevalga sulla singola esigenza o sugli singoli egoismi è una cosa che non viene colta. Se in questo momento ci fosse più volontà di parlarsi, quel suo messaggio anche d'annunzio apostolico che diede scrivendo quella enciclica, parlarsi, dialogare per riuscire a dirimere le controversie in maniera civile sarebbe sicuramente una cosa molto utile, specialmente in questo anno, anno e mezzo, dove abbiamo visto una guerra che quasi riprende la prima guerra mondiale come modalità o il conflitto israelo-palestinese che da troppi anni sta divorando quelle zone. Si potrebbe, ripeto, prendendo quelle parole e l'insegnamento di San Giovanni XXIII, fare ben altro e sicuramente meglio per i propri cittadini. La domanda alla quale abbiamo cercato di rispondere è un testo che ci parla ancora, è vitale, perché non sempre le encicliche hanno dimostrato di essere dotate di una grande capacità di resistenza alle trasformazioni del tempo. Non perché ci sono le due guerre ormai purtroppo, ma perché dalla fine della seconda guerra mondiale non si è riusciti ad imperire il sorgere continuo di fatti sanguinosi, la lettura a 60 anni di distanza ti rivela che cosa? Che purtroppo, se l'avessimo presa sul serio, forse oggi avremo meno problemi, perché Papa Giovanni invita a, dice, abbiamo un obbligo di verità, non dobbiamo contare bugie, raccontare bugie. C'è un obbligo di rispetto della persona umana, c'è un obbligo di assoluta resistenza ad ogni iniziativa che metta in pericolo la dignità delle persone. Noti che non si indirizza ai cattolici, neppure ai cristiani, ma a tutti gli uomini buona volontà. Ed è questo che tra l'altro mi ha consentito di mettere insieme 37 persone, le quali possono essere credenti, non credenti, mischredenti, iconoclasti, ma sono tutti stati dimostrati sensibili per i problemi, che toccano la vita delle persone e quindi il futuro dell'umanità. La Pace Minterris nacque dal più grande successo diplomatico della Santa Sede del Novecento, cioè il fatto che con un telegramma mandato insieme a Khrushchev e Kennedy, Papa Giovanni fermò la Terza Guerra Mondiale dieci minuti prima che scoppiasse. Riflettendo su questo, decise che bisogna prendere la parola per tentare una cosa che invece la Santa Sede non ha mai fatto prima, cioè anziché cercare semplicemente una posizione neutrale dalla quale dire delle parole sagge, prendono una posizione in favore della pace trovandone i pilastri e stabilendo che su quei pilastri si poteva costruire realisticamente sapendo che l'arte del compromesso non è una cosa da disprezzare ma appunto riguarda quelle cose che si promettono insieme e la pace o la si promette insieme non ci sarà mai.